E cambiarle di volta in volta a seconda del vostro outfit, ogni pietra un significato, ogni charm e simbolo un significato, ogni lettera, non c'è bisogno che ve lo dica io naturalmente, un significato, una persona, uno stato d'animo, qualcuno che vogliamo ricordare, portare sempre con noi o la nostra iniziale da regalare alle persone che ci vogliono bene, perché ci portino con loro in tutti gli istanti della loro vita. Cosa dovete fare? Scegliere unicamente la placatura, il gioiello è realizzato in argento, potete scegliere tra la placatura oro o la placatura rodio e a quel punto andate a personalizzare, vedete qua vi stiamo mostrando tutte le varie possibilità e anche questo video che ci fa un po' vedere l'anima di Duo, che è l'anima anche di una donna che cambia, che ama cambiare. Un po' come me, chi ama cambiare ma che vuole il gioiello distintivo, quello unico, quello esclusivo, la nostra firma, io non sono una persona che indossa gioielli molto vistosi, sono già vistosa di mio, quindi tendo a indossare gioielli che siano molto appealing, molto distintivi, molto iconici, però lineari. Esatto, di design, questo è un vero pezzo di design che vi distinguerà da tutti, finalmente fuori dal coro, di personalizzazioni ne abbiamo viste tante, partiamo sicuramente dal mondo del lusso, ricordiamo tutte le borse griffate che vengono personalizzate con il monogram, ricordiamo le camicie che vengono personalizzate con il recano, esatto, le penne costose, insomma le iniziali sono sempre state appartenenti al mondo del gran lusso, perché il lusso è l'essere esclusivo. L'essere avvenuto solo io, esatto. Allora ci sono tre minuti di coda al nostro call center, state in coda, non riagganciate, la coda è gratuita, avete una grande occasione, duo, arriva quest'oggi in QVC Italia come lancio mondiale di un brand interamente personalizzabile, con grande facilità, io ho scelto la I, ad esempio l'iniziale del mio nome, che cosa devo fare per toglierla? Faccio ruotare un mezzo giro e voilà, il gioco è fatto e posso già andare a cambiarlo. Quando voglio inserire, spingo dentro, c'è un gommino e giro ed è fatto. Quindi facilissimo per cambiare, cambiarci, dare la possibilità anche a chi lo riceverà in regalo di evolverlo tutte le volte che vorrà, perché magari cambia stato d'animo, perché è diversa la persona che vuole ricordare, perché ogni pietra avrà un significato e tra poco ve le mostriamo, perché ci sono tutte le iniziali in tutte e due le varianti. Attenzione, siete quasi 50 in linea, benvenute. Per chi volesse, naturalmente, c'è la possibilità di acquistare l'iniziale a parte, allora andiamo a vedere, il charm lettera, costa 28,98 euro, ecco di cui tutte le letterine disponibili, dalla A alla Z, in tutte e due le varianti. Vedete che pian piano diventano azzurre, cosa vuol dire che diventa azzurro? Che va in preordine, da quando vi arriva il preordine? Dal 19 di dicembre, non vi preoccupate, arriva per Natale, quindi se dovesse essere un regalo, state tranquille. Le lettere, così come tutti i charm che andremo a presentarvi, si abbinano a tutti i gioielli. Noi vi abbiamo mostrato il bracciale, ma adesso vi faremo vedere anche tutte le altre proposte. Sono universali, vero? Sono universali, su duo le potete indossare su ogni gioiello. Attenzione che hanno due codici diversi, avete visto il codice della variante in oro giallo? C'è anche la variante argento rodeato. Esatto, la variante argento rodeato con il suo codice che adesso vi mostreranno. Queste lettere vi consiglio di acquistarle, se avete acquistato il bracciale o se volete acquistare qualsiasi gioiello duo, e volete creare il monogram con entrambe le lettere, perché vi ricordo che il bracciale vi arriva con un charm tondo, incastonato e intriso di questi cristalli stupendi e una lettera. Ma se voi volete creare il doppio monogram, quindi con due lettere, vi chiamate Roberta o avete due figli, magari uno si chiama Roberto e l'altra si chiama Sonia, potete creare il bracciale con le due lettere, semplicemente acquistando la seconda lettera. Io sono andata a rubare la D. Questo è stupendo, sarà vostro, sarà la vostra vita, sarà il vostro vissuto, i vostri amori, sarà semplicemente noi. Proprio per questo duo io lo adoro, perché è qualcosa che mi distingue, perché l'ho scelto io, l'ho fatto io, l'ho praticamente ideato io, nel senso che ognuno di voi idea la sua combinazione. Volevo farvela vedere anche con le pietre, adesso me le faccio portare, così vedete anche una lettera e una pietra, quanto sono belle. Guardate che bella anche la placatura, vabbè Letizia ci ha molto ben abituate, lucidato perfettamente, nella versione fredda, altissima gioielleria, è quello l'effetto, nella versione oro, ricordiamo che la placatura oro è quella più glamour, è quella più modaiola. Guardate che bello, io ho composto adesso un D, Letizia, RS, insomma si può, molto bello con le due iniziali, G, magari una mamma che ha due fete. Che bello, D, guarda che bella anche la I, nonostante sia lineare, è fatta veramente bene. Mi piace proprio per quello. Che ogni lettera è stata realizzata in microfusione, ogni lettera è un gioiello, è stata modellata, è stato creato il suo modello, il suo master in microfusione da un orafo che tra l'altro è uno degli orafi in Italia più rinomati per l'altissima gioielleria e che io saluto, si chiama Alessio, se ci sta guardando, è un orafo con cui collaboriamo ormai da oltre 60 anni, il padre prima e lui dopo, perché l'azienda che realizza Duo è un'azienda che ha oltre 60 anni di esperienza nella gioielleria di pregio e quindi tutto quello che vedete, anche l'apertura del bracciale,